ha fatto un bando pubblico, questa coalizione sta rendendo pubblici tutti i propri incontri non ci sono incontri clandestini o incontri per le vigne, noi quello che facciamo lo diciamo perché non abbiamo paura di quello che facciamo, siamo convinti che questa è la strada giusta e la percorreremo fino alla fine, grazie bravo Pietro grazie Pietro, adesso passo la parola al nostro sindaco